Torna dal 7 al 9 di ottobre Firenze Books, il festival dedicato al libro, alla diffusione della lettura e alla valorizzazione delle librerie indipendenti. La tre giorni, organizzata da Confartigianato, si svolgerà l'ippodromo del Visarno nel Parco delle Cascine. In programma 50 presentazioni, tra le quali il premio strega e campiello Helena Janesec, il fumettista Pera Tons, Massimo Cotto con Piero Pelù, Lorenzo Baglioni, oltre a laboratori di letture per bambini. Si troveranno un sacco di libri, ovviamente, si troveranno tanti libri a disposizione di chi li vorrà acquistare, libri di tutti i generi, ovviamente libri dedicati a Firenze, libri dedicati ai bambini, ma libri davvero di ogni settore, dalla saggistica alla narrativa e soprattutto si troveranno più di 50 presentazioni con autori di livello nazionale e internazionale. Abbiamo il vincitore del premio strega, abbiamo Piero Pelù, abbiamo Lorenzo Baglioni, abbiamo alcuni dei più importanti giornalisti sportivi. Insomma, saranno tre giorni belli e densi. Nella precedente edizione, svoltasi alla Manifattura Tabacchi, hanno partecipato più di 9.000 persone.